Benvenuti nello Zebra Experience Center di Londra. Questo breve video ha lo scopo di mostrarvi come gli intelligent cabinets di Zebra possono aiutarvi ad affrontare le sfide di produttività e proteggere l'investimento dei vostri clienti. Gli intelligent cabinets sono progettati con l'obiettivo di fornire una soluzione per alloggiare, caricare e proteggere i vostri terminali Zebra. L'accesso avviene attraverso un sistema rapido e sicuro che permette di fornire terminali sempre aggiornati, carichi e pronti per l'uso. Gli intelligent cabinets trovano una perfetta applicazione in tutti i settori, incluso il mondo retail, trasporto e logistica, produzione industriale e il settore sanitario. Gli intelligent cabinets sono disponibili in 7 versioni con una capacità che può andare da 5 a 100 terminali. Sono disponibili anche ripiane ad alta densità che permettono di alloggiare più terminali per ripiano. Ma ora guardiamo i cabinet da vicino. Benvenuti nel centro di produzione Zebra nel Berkshire in Inghilterra. Qui abbiamo la possibilità di guardare più da vicino i modelli di intelligent cabinets disponibili. Si parte dal modello più piccolo, quello compatto, che supporta fino a 5 terminali. Questa configurazione è ideale dove sono necessari pochi terminali per ogni turno, come i piccoli negozi al dettaglio. Passando alle altre configurazioni, abbiamo un modello piccolo che può alloggiare fino a 20 terminali, mentre quello medio fino a 30 terminali. Questi modelli sono normalmente utilizzati nei magazzini e nei centri di distribuzione, dove diversi cabinets sono dislocati nei punti nevalgici del magazzino. Per darvi una proposizione delle altezze, io sono alto circa 1,80 m. Qui invece abbiamo i modelli più venduti, quello large che può contenere fino a 40 terminali, quello extra large che supporta fino a 50 terminali e infine quello extreme che supporta fino a 100 terminali. Questi modelli sono tipicamente utilizzati negli stabilimenti produttivi o nei magazzini di grandi dimensioni, dove si lavora su più turni e si utilizzano numerosi terminali. Gli intelligent cabinets sono costruiti con materiale ad alta resistenza e sono forniti comprese multiple di corrente. I cabinets vengono raffreddati sfruttando un flusso d'aria passivo che si genera grazie al design delle pareti laterali e posteriore. Questa soluzione permette di evitare l'uso di ventole, riducendo quindi i costi e l'impatto ambientale. Il design e dei materiali utilizzati permettono una perfetta ricezione del Wi-Fi, consentendo ai terminali di poter essere aggiornati da remoto. Inoltre, le porte d'accesso in materiale trasparente consentono un facile accesso e riducono l'ingombro. Gli intelligent cabinets, in combinazione con ZAMS, evitano che persone non autorizzate possano prelevare i terminali, ma oltre a questo i cabinet dispongono anche di una serratura fisica, che permette di proteggere ulteriormente i terminali, per esempio durante le ore notturne. In aggiunta agli intelligent cabinets, Zebra ha anche progettato un sistema di blocco fisico che è possibile applicare alle basi di ricarica dei terminali della serie TC20, TC50 e TC70. Questo sistema permette l'estrazione del terminale della base solo attraverso l'uso di un codice PIN. In questo modo solamente il personale autorizzato può prelevare un terminale. Questa soluzione può essere usata sia in maniera indipendente sia collegata a ZAMS. In questa ultima configurazione sarà anche possibile registrare, monitorare e tracciare chi ha preso il terminale e quando. Se desiderate maggiori informazioni sugli intelligent cabinets e il sistema di blocco delle basi di ricarica, contattate il vostro rappresentante Zebra di fiducia.